Meritato, anzi strameritato, l'attaccante del Gela Calcio Maurizio Nassi ieri sera paternò nel corso degli Awards of Football Stars 2016 ha ricevuto il pallone d'oro siciliano. Il giocatore biancazzurro quest'anno è stato uno degli artefici della promozione del Gela in Serie D segnando 19 reti senza l'usilio di rigori. In carriera tra Serie A, B, C, 1 e D ha messo segno oltre 100 gol. Un premio che ti aspettavi? No, che mi aspettavo, che mi aspettavo no, che speravo. E' comunque un merito riconosciuto che mi fa molto piacere, mi inorgoglisce di tutto il lavoro che ho fatto e sono felice perché, ripeto, è una cosa che faccio nella mia terra a livello regionale e da buon siciliano, questo fa molto piacere. Tanti gol realizzati tra Serie A, B, C, 1, Serie D, eccellenza, ultimamente 19 reti senza l'usilio di un rigore. Poi il coronamento, il premio ricevuto ieri. C'è una dedica particolare? Sì, questo lo voglio, oltre a dedicarlo a me stesso, per tutto l'impegno in quello che ho fatto quest'anno. Poi ovviamente alla famiglia che mi supporta e mi sopporta per tutti i sacrifici che faccio e che faccio fare a loro. E poi a tutta la gente che mi vuole bene, che mi ha votato, al Gela Calcio e ai miei compagni di squadra, perché anche a loro devo tanto per il lavoro che hanno fatto. E' alla città di Gela che mi sostiene in ogni momento. Oltre a Nassi sono stati premiati la società del Gela e l'allenatore Toto Bruculeri. Assieme a Raffaele del Gia Virtus è stato riconosciuto il miglior tecnico di eccellenza. I premi sono stati ritirati dalla detto stampa del club presieduto da Angelo Tuccio, Flavio Centamore. In merito alla vicenda legata al campo sportivo che non ha avuto l'omologazione, siete realmente estremamente preoccupati? Io personalmente sì, perché in questo anno abbiamo fatto tanti sacrifici. Noi come squadra e la società come società Gela Calcio. Quindi sapere l'11 di giugno, perché praticamente non possiamo giocare nel nostro terreno di gioco, al Vincenzo Presti, è una cosa molto grave. Io faccio appello al Comune, è un sollecito il mio, a cercare di intervenire immediatamente perché sarebbe una cosa negativa per noi, ma soprattutto per la città, che finalmente passo dopo passo e sacrificio dopo sacrificio va ad affrontare un campionato semiprofessionista abbastanza importante.